Ciao ragazzi! Allora, review del nuovo mascara, L'Oreal, Volume Million Lashes, Feline, questo è il packaging verde, è molto simile agli altri, Volume Million Lashes soltanto che è verde, è a Feline e dice New Ergonomic Curve Brush, quindi la wand è differente, quindi vado a mostrarvi l'applicazione innanzitutto, lo comparerò con il Maybelline Lash Sensational della Maybelline, così posso farvi vedere la differenza tra i due e dire qual è il migliore. Musica Come avete potuto vedere l'effetto è molto simile, tra di loro, quindi sono molto simili. Sono molto simili, l'avete visto anche dall'applicatore che è quasi identico, quasi, tuttavia io preferisco questo perché allunga le ciglia un pochino di più, le curve le allunga un pochino di più, ma dipende dalle vostre necessità. Se avete delle ciglia lunghe, se avete delle ciglia lunghe ma volete semplicemente scurirle perché magari siete bionde o sono un po' chiare, insomma sono castano chiaro, eccetera, vi consiglio questo perché le rende molto più scure di questo. Le rende molto scure e le curva un pochettino, ma non tantissimo. Se invece il vostro problema sono, insomma, le ciglia molto corte, allora meglio questo perché le allunga le curve un po'. Se avete poche ciglia, forse è meglio questo perché le riempie un po' con il colore. E questo è tutto, spero che vi sia piaciuta la review, ricordatevi di iscrivervi al mio canale. Ho anche un giveaway aperto italiano, quindi se vi va di partecipare è il video precedente. Tutte! Ciao!